Due mete da non perdere in Molise Termoli sulla costa e Larino nell'entroterra Termoli affacciata sul mar Adriatico con il suo borgo antico da visitare a piedi e la lunga costa di sabbia fine è l'ideale per una vacanza rilassante anche da vivere in famiglia e con i bambini Larino a circa mezz'ora di distanza nell'entroterra in provincia di Campobasso un borgo dalle tradizioni ancora vive dove visitare il centro storico con la cattedrale di San Pardo e i vicoli e non lontano dalla parte antica del paese e i resti dell'anfiteatro romano dove vivere a contatto con la natura e assaggiare i prodotti locali Grazie a tutti Grazie a tutti